il monace di crautura lì c'era però era un complesso ma sai quello che stai trillendo? eh? cosa stavi qua dentro? no, è di radio qua dai cane c'è anche il passaggio c'è anche il passaggio ponte passaggio ponte sarà meglio compattiamo vici, vici, attenzione sono tutti ora attento è una chitta di piacere questa ma la torta l'avete portata? vai via ma che dimbe che le donne lì? oh arriva uno di orso vieni il caffè del mio vieni 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 il lombardone l'altra volta l'altra volta era guarda con te se lo so affloscio se a me mi so affloscio perché a me mi so affloscio se ho la pasticchina c'e la celestina chiara Grazie a tutti. Non bisogna mai guardare davanti, vedi che cementata che è questa via. Io guardo un terra. No, vada cementata. Vedi il monte polgorito? Sì, questo è il mio. Dio ragazzi, mi scoppia un po' il pace. Sì, questo è il mio. 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 Sì, che bello. Ma da un po' di roba. Ma da un po' di roccia. Sì, questo è il mio. 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 E' il mio. Lo sa se non ti mangi. Allora, per favore che mangia. Ma già lì c'è il parmigianino. E' il mio giaguaro che sleppa che ci hai. Grazie per la visione!